Colpo di scena nelle candidature per le elezioni supplettive per il collegio denominale della Camera dei Deputati di Cagliari. Il candidato al Movimento 5 Stelle, Luca Cascili, è stato escluso dalla corsa elettorale per un errore formale nella presentazione del simbolo del Movimento. In particolare non è stato consegnato lo stemma nella forma richiesta dalla normativa in vigore. Comunque il Movimento 5 Stelle ha annunciato il ricorso d'urgenza che dovrà essere depositato entro le 17 di oggi, anche se il ricorso potrebbe essere regettato perché sulla base della normativa e che ha portato la Corte d'Appello di Cagliari ad escludere il candidato pentastellato, la presentazione del simbolo del partito del Movimento è parte integrante della documentazione e non può essere integrato successivamente, ma la materia è soggetta ad interpretazione e non si escludono ulteriori sviluppi. Senza problemi invece le candidature di Andrea Frailisi per il centro-sinistra, Enrico Balletto di Casa Pound e Daniel Annuli del centro-destra. Per ora sono tre i candidati che si contenderanno il seggio lasciato libero da Andrea Mura, il velista eletto col Movimento 5 Stelle costretto alle dimissioni dopo le accuse di assenteismo dai lavori parlamentari e l'espulsione dai 5 Stelle.